E' importante anche per la sfida che sto facendo qui a Roma come tagliato sindaco a qualcuno di Roma. Allora d'abord, io vorrei ringraziare Gianni per l'invito e dire tutto il piacere che ho avuto oggi. Desidero innanzitutto ringraziare Gianni per l'invito e imprimere il mio vivo compiacimento che è qui oggi con voi. Io vorrei dire che io rappresento l'UMP, cioè il Partito Nicola Sarkozy, in Francia e noi vediamo con molto simpatico il movimento che è in Italia a un livello politico. E voglio dire che rappresento l'UMP, il Partito di Sarkozy, in Francia e devo dire che noi stiamo guardando con molta simpatico il movimento politico che si sta qui ora creando. Perché in effetti quello che poi alla fine ci ha permesso di vincere è stato il fatto che abbiamo riunito fra loro vari movimenti della destra e del centro. Inoltre, siamo anche profondamente convinti nell'ambito del progetto Euro-Mediterraneo che sta molto a cuore il presidente Sarkozy. e che quello che riguarda le relazioni tra Francia e l'Italia hanno insieme tutta una serie di punti comuni e di tematiche che desiderano sviluppare completamente. Dei punti, molto rapidamente. D'abord, quando ho sentito i temi della vostra campagna, cioè la riabilitazione del lavoro, è anche un tema che è stato molto forte in Francia. Perché credo che il problema che potete sullevare è un problema comuni a di molti, 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 a di molti. Il primo punto riguarda la riabilitazione del lavoro. Questo è un argomento che è stato ed è molto importante per la Francia e che è un problema, è un argomento molto caro a paesi vecchi come i nostri. Questo è stato il problema della campagna di Sarkozy e che è stato poi il punto di partenza di una serie di riforme che sono fatte immediatamente a decorrere dal primo pubblico. E poi, d'altra parte, per finire, vorrei apportare tutta la simpatia nel combattamento che engage Gianni per la riabilitazione di Roma. Desseremo, infine, esprimere tutto il nostro appoggio per la campagna che porta al candidato sindaco di Roma Gianni Alemano. Perché, vous savez, alcuni d'entre voi, avevano ancora entrato, mi dicevano che il maire di Paris attuale ha molti dei punti proches con alcuni candidati in Italia, a la mairie di Roma. E io vorrei simplement far remarcare una cosa, e io arreterò il parallelo là, c'è che la lista socialista che viene di gagner a Paris, non è una lista maximalista. C'è una lista, al contrario, dove, io voglio dire, le vert hanno perduto la loro importanza, dove l'extrême gauche ha stato repoussato. E, excusez-moi, ma quando io vedo ciò che sta succedendo per la lista di gauche, non ho l'impressione che sia la stessa che è stata accoppita a Paris. E qui, quando mi stavo recando qui a proposito del sindaco di Parigi e delle assonanze che mi sono state suggerite tra quelle di Parigi e quelle qui a Roma, desidero dire alcune puntualizzazioni. Innanzitutto la lista socialista di Parigi e per quanto riguarda anche la sinistra, la sinistra è assolutamente massimalista. E poi abbiamo avuto i verdi, i verdi che hanno perso di importanza e la sinistra estrema che è stata respinta. E sicuramente la sinistra che abbiamo qui non ha eseguito le stesse iniziative che sono state eseguite a Parigi. E dopo qualche settimana, sarà, bien sûr, molto heureux di accogliere Gianni a Parigi per discutere dei problemi che chiaramente noi abbiamo un giorno e che può lui essere utile nella campagna di Parigi, a cui on lui souhaite un grande successo. E quindi saremo molto lievi per qualche settimana di accogliere Gianni a Parigi per parlare di problemi che noi abbiamo in Comuni e gli auguriamo ogni successo.